Siamo con il Presidente del Banco Marchigiano, Sandro Palombini, che ci fa una panoramica sul territorio. Gli impegni crescono del 6,8%. Qual è la situazione? La situazione economica è abbastanza complicata. Noi fino all'anno scorso operavamo nelle province di Macerata e fermo. Adesso abbiamo allargato la nostra operatività, arriviamo fino alla zona di Fano e quindi lungo tutta la fascia triatica. Ovviamente abbiamo distretti comunque completamente diversi e un'operatività molto più ampia. L'operatività della banca non cambia nel senso che comunque operiamo nei confronti delle piccole imprese, delle famiglie, degli artigiani. Abbiamo fatto delle convenzioni, quindi siamo aperti a cercare di aiutare il territorio per le esigenze che hanno e nei limiti delle nostre possibilità. Nonostante una situazione che non sia proprio delle migliori, rimane importante la diversificazione? Sì, questo è vero. Però è anche vero che per esempio nella zona del Maceratese e del Fermano, essendoci il distretto calzaturiero che presenta un'enorme crisi, gli interventi devono cercare di essere da parte del sistema bancario in generale molto più attivi proprio perché vi sono delle esigenze particolari. La crisi è sentita e avvertita ovviamente da tutti, ma noi dobbiamo fare la nostra parte. Esatto, la mission di essere vicino al territorio. Sicuramente sì. Grazie. Siamo con il direttore Marco Moreschi del Banco Marchigiano, neodirettore, un anno e mezzo. Gli impegni crescono del 6,8%. A lei. Sì, non solo gli impieghi che peraltro sono la cifra di, come non facciamo degli slogan, ma stiamo rigirando ricchezza e supporto ai nostri territori. Crescono anche i mezzi amministrati in modo molto importante. Cresce l'utile che addirittura anno su anno raddoppia, perché parliamo di un utile di periodo netto a 2,8 milioni di euro rispetto all'1,4 dell'anno precedente. Ci piace dire che il Banco Marchigiano parte con il piede giusto. Anche grazie ad un'estensione che non è più relativa solo alle province di Fermo e Macerata, ma si sposta anche nelle altre province marchigiane. Sì, noi l'abbiamo detto quando ci siamo presentati al territorio nostro, è un progetto dichiaratamente a vocazione regionale. Noi vogliamo diventare il punto di riferimento bancario di questo territorio bellissimo. Io dicevo che sono marchigiano da un anno e mezzo, ma adesso le marche le conosco molto bene. Io penso che stiano chiamando una realtà a vocazione regionale. Questa è la nostra mission. Grazie. Grazie. Grazie.